Buongiorno, siamo qua a Lipakima, una fiera dedicata al packaging, dove non poteva mancare la presentazione di questa cup, Evo Cup, che noi abbiamo scelto come Food for Life per il nostro packaging, le nostre cup. È una cup completamente sostenibile e riciclabile in carta e la parola sostenibile è diventata la base un pochettino dei nostri prodotti e devono essere sostenibili non solo nella loro ingredientistica e quindi anche nella produzione, nelle tecniche produttive dei loro ingredienti, ma anche specialmente per quello che riguarda il mondo del packaging. Il pack rimane oggi forse il punto più importante e nodale per cercare di evitare il consumo di plastiche e quindi la dispersione nell'ambiente di tutto quello che riguarda questo tipo di materiale. Certamente dobbiamo abituarci ad utilizzare questo prodotto che ormai però si è attestato come assolutamente sostituibile al contenitore di plastica. A livello anche di performance nel nostro caso possiamo considerare che si presenta in una condizione ottimale anche per l'utilizzo con acqua bollente. Acqua bollente vuol dire che le cup vengono sollecitate ad una temperatura dell'acqua di oltre 100 gradi ma nonostante questo hanno un comportamento perfetto anche nella manipolazione post idratazione del prodotto appunto con acqua bollente. La cosa più importante da sottolineare è la possibilità di utilizzare questo pack e poterlo poi immediatamente buttare nel nostro recipiente della carta. Evocup è un prodotto totalmente in carta con uno strato protettivo interno di Evo H che garantisce l'assoluta impermeabilità agli agenti esterni come l'umidità e quindi protegge i nostri prodotti al meglio. È anche estremamente versatile perché possiamo adattarlo a diverse confezioni e quindi può avere diverse dimensioni. Nel nostro caso abbiamo ottenuto anche ottimi risultati per quello che riguarda la grafica in quanto con la stampa offset applicata su questo tipo di pack abbiamo ottenuto perfetti risultati riguardanti appunto la trasformazione del progetto grafico dell'agenzia a quello che è poi la realizzazione diretta sul pack. Concludo sottolineando tre punti principali. Il primo la versatilità del pack, il secondo la sostenibilità del pack e il terzo la facilità con la quale questo pack può essere stampato per cui per quello che riguarda le esigenze della nostra azienda è riuscito a soddisfarle al cento per cento. Grazie a Devo Cup speriamo di consumare meno plastica e di produrre un po' più di carta. Grazie.